Sono Claudia, missionaria della comunità missionaria Villareggia, sono peruviana e vado in Burkina Faso, è una delle missioni che noi abbiamo là in Africa. Non cammino da poco, ma sono contenta di trovare altri fratelli, di conoscerli, di inserirmi anche dentro di questo popolo e camminare insieme a loro. Per me essere missionario è condividere la vita con gli altri, essere sorella di tutti, dove il Signore mi invia, fare esperienze anche di questo scambio e soprattutto anche fare questo annuncio dell'amore di Dio che oltrepassa le frontiere, anche le culture, che è di tutti. Allora per me questo è il primo approccio, dare testimonianza di quello che il Signore ha operato nella mia vita e desidero condividerla con gli altri.